E' impossibile che nessuno si accorga che il treno su cui viaggia finisce qui. Ognuno vive fra le quattro mura dell'esistenza che conosce. Siamo limitati e viviamo in un mondo limitato. Prova a immaginare, Alison. Ogni mattina, per andare a lavoro o a scuola, tu prendi un treno. Non importa di che tipo, può essere un treno normale, la metropolitana, quello che vuoi. Sei abituato a fare lo stesso identico tragitto tutti i santissimi giorni e conosci il percorso a memoria. Ma per una frazione di secondo ti addormenti. Oppure entri in una galleria o magari semplicemente sbatti le palpebre. Ti parla Jason Shepard e questa è The Midnight Tower. C'è stato un cambio di conduzione, per così dire. La saliva non è più al comando della nave. Il capitano ora sono io. Che vi piaccia o no? A me non interessa. Potete credere a quello che vi pare. Potete credere che sia tutta una messa in scena. Che sia opera degli illuminati. O che sia uno sceneggiato radiofonico. Ma potete credere anche che sia tutto vero. E che quello che io ora sto per presentarvi sia la prova tangibile di un fatto brutale. A capta... Is this the sky love? Let it be the soul. 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 Let the soul. Grazie a tutti.